La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha dedicato particolare spazio alle problematiche e alle prospettive connesse al mondo dell'informazione in Umbria. Alla fine della riunione, alla quale ha partecipato anche l'assessore regionale Fabio Paparelli, la commissione ha concordato con la Giunta che quest'ultima presenti, entro il mese di maggio, una prima relazione schematica con le linee fondamentali di indirizzo di una proposta di legge regionale sull'editoria, in maniera che la commissione possa fare le proprie proposte e integrazioni, per poi arrivare con un testo da discutere agli stati generali dell'informazione che l'esecutivo di Palazzo Donini ha intenzione di organizzare entro la prossima estate. Introducendo i lavori, la presidente Smacchi ha ricordato come la prima commissione si è già occupata di questa materia, con audizioni che sono state richieste in seguito a una sua interrogazione sul caso specifico della crisi del giornale dell'Umbria. Avevamo poi esteso i lavori alla crisi più generale del mondo dell'informazione, ha detto Smacchi, partendo dal presupposto che la legge Umbra è datata, essendo stata approvata nel 2000. Ora, ha aggiunto Smacchi, è necessario concordare il lavoro con quello della Giunta per arrivare a una proposta di legge per una nuova normativa regionale sull'editoria. Grazie. Grazie.